Quindi quando Rob mi ha chiesto di predicare su Gesù e gli stranieri, mi è venuto un po' da sorridere, perché dico, vado a casa mia, vado nella mia terra a predicare su come accogliere gli stranieri. Mi sembra un po' strano. Eppure, viviamo un po', anche se siamo nella stessa regione, viviamo un po' come separati in casa. Già il nome, Friuli Venezia Giulia, no? Friuli da una parte, Venezia Giulia dall'altra. Dice di due realtà che sono due conglomerati che si sono stati uniti in qualche maniera. Dite per esempio a un friulano, che il suo capoluogo è Trieste, vi spara. Non è possibile. Oppure dite a un triestino, Trieste in Friuli. Non vi parla più. Siete completamente fuori. Il risponde in dialetto triestino, che adesso non dico, perché non riesco a pronunciarlo, non peraltro, perché non sono capace. Però dice, stai zitto, italiano. Perché per i triestini è difficile anche essere in Italia. Quindi siamo veramente tutti stranieri. Ecco, questa è l'idea. A 18 anni sono andato a vivere a Trieste. E veramente mi sentivo come il ragazzo di campagna, no? Un film di compozzetto. Il ragazzo di campagna che arriva in città. Ero totalmente, totalmente spaesato. Sembrava di essere un po' come Giovanni e Giacomo. Avete presente il trio, no? Aldo, Giovanni e Giacomo. Giovanni e Giacomo che fanno il test della cadrega ad Aldo, per vedere se l'è un per uno o no. Così era, uguale. A Trieste dicevo due parole e subito, te son foresto, non sei di Trieste. Si sente subito, sei forestiero. I triestini sono veramente gente molto divertente. Passi delle serate veramente in allegria, divertente, eccetera, eccetera. Ma se sei foresto, se sei foresto, passi una bellissima serata. Ma quello che finisce là. Non c'è accoglienza. Se non sei cresciuto con loro, non è facile integrarsi, perché rimani un foresto. E già dopo qualche giorno, infatti, che ero finito a Trieste, ho fatto la mia prima profezia. Ho detto, non mai vivrò mai a Trieste e non sposerò mai una triestina. Mi sa che non sono qualificato come profetta. Qualcosa mi dice questo. Grazie a Dio mi ha sconfessato. Nessuno di noi vorrebbe essere trattato da straniero, no? Nessuno di noi vorrebbe essere guardato dall'alto in basso o guardato con diffidenza, no? Perché hai qualcosa di diverso dagli altri, per il colore della pelle o per come sei vestito o per quanto grosso o magro sei, no? Nessuno di noi vorrebbe esserlo, perché abbiamo abitudini diverse. I nostri genitori sono ancora feriti dal trattamento che hanno riservato, che i loro padri hanno subito quando sono andati in Belgio a lavorare, no? E si ritrovavano nelle miniere a lavorare il carbone, dopo andavano nei bar e trovavano i cartelli. Qui non possono entrare gli italiani e i cani, no? Qui non vogliamo ricevere questo trattamento. Tutti vogliamo essere accolti. Eppure quello che sperimentiamo normalmente, quando andiamo in ambienti con gente che non sono come noi, è diffidenza, è paura, aggressività, forse è anche qualche occhio torbo. Non mi piace questo. Ma credete veramente che noi siamo così diversi quando ci ritroviamo davanti a uno straniero? Che lo accogliamo come vorremmo essere accolti? Chiedete a qualcuno di colore, abbiamo visto la testimonianza della sorella meravigliosa, no? Come si è sentita lei quando è arrivata, i primi tempi che è stata in Italia, qua, in questa terra, no? Chiedete, abbiamo tanti fratelli rumeni anche da tante altre parti del mondo qua, no? Chiedete a loro, chiediamo a loro come si sentono quando incontrano qualcuno e riconosce questo accento diverso. Non ci rendiamo conto che noi siamo i primi ad alzare i muri. Non ci piace subire la diffidenza, ma siamo bravissimi a usare la diffidenza, no? E oggi allora ci chiediamo proprio, come cristiani, ci chiediamo, è possibile sognare e vivere un mondo dove non abbiamo più paura dello straniero, ma possiamo accoglierlo come vorremmo essere accolti. E per far questo vi chiedo di aprire il Vangelo di Matteo. Matteo è forse il Vangelo che parla più di questo, parla più del rapporto tra Gesù e gli stranieri. E vogliamo scorrerlo un attimo partendo dal capitolo 1 e dopo ci fermeremo più sul capitolo 8, ok? Quindi dal capitolo 1. Il Vangelo di Matteo è interessante perché Matteo presenta la vita di Gesù in cinque grandi discorsi, no? Cinque grandi discorsi e poi unisce con episodi questi grandi discorsi, li unisce tra di loro con degli episodi sulla vita di Gesù, no? E praticamente ogni episodio nasce dal primo discorso e introduce il discorso successivo, questo è quello che fa. E forse ci ricordiamo il discorso più famoso, il primo, quello nel capitolo 5 e 7, no? Il sermone sul monte chiamato. E se non vi ricordate questo sermone non è un problema, oggi avete l'opportunità di andare a casa, aprire questo Matteo capitolo 5 e leggerlo dal capitolo 5 al 7. E' uno di quei discorsi che un po' stuzzicano la nostra fantasia per un mondo migliore. E' un mondo dove ogni umiliazione consolata, dove la giustizia prevale, dove c'è semplicemente armonia, dove c'è pace. E' il mondo che tutti desideriamo, il mondo che tutti vogliamo. Ma come Gesù è arrivato su questo monte? Lo vediamo nel... torniamo un po' indietro come in un film, no? Un po' un flashback. Diamo uno sguardo all'inizio, Matteo 1. E se guardate proprio l'inizio, Matteo 1 inizia con una genealogia. Genealogia di Gesù Cristo, cioè il Messia profetizzato che quello che avrebbe portato vittoria, pace, niente lacrima, pienezza dello spirito, è lui che stava arrivando. Figlio di Davide, dice, cioè discendente del re. La pace ci sarebbe stata perché un figlio di Davide sarebbe venuto e avrebbe portato questa vittoria, avrebbe portato questa pace, no? E' quello che stavano aspettando. Ma anche figlio di Abramo, non c'è nessuno più giudeo di Gesù. Quindi uomo giudeo, re dei giudei, Messia, eppure anche figlio di Dio. Nato da vergine per azione dello Spirito Santo, dal giorno 1 della sua vita si capisce che Gesù è unione, è unione tra cielo e terra. E il capitolo 2 ci dice che fin da piccolo per chi è viene perseguitato, no? Viene rifiutato dal mondo quel mondo che è venuto a salvare ed è costretto, lui, il creatore del mondo, è costretto a vivere in esilio. Viene scacciato in Egitto e dopo anche quando ritorna, non ritorna a Gerusalemme, nella città, nella città santa dei giudei, ma deve andare fuori da Gerusalemme ed è costretto a vivere in esilio, fuori dalla Giudea, no? Deve andare a vivere a Nazareth, in Galilea, una terra che i giudei dicevano, lì ci sono sì degli ebrei, sono nostri fratelli, ma non proprio perché sono contaminati dai pagani. Quindi si ritrova Gesù straniero nella sua stessa terra, scusate. E quindi saltiamo al capitolo 4, no? Quando Gesù inizia il suo ministero terreno e lo fa predicando parole incredibili. Guardate, capitolo 4, versetto 17, capitolo 4, versetto 17, da quel tempo Gesù cominciò a predicare e dire, ravvedetevi, perché? Perché il regno dei cieli è vicino. E perché può dire queste parole Gesù? Perché lui, il re del cielo, sta venendo a liberare gli stranieri e riconquistare la sua gente, è venuto per riconquistare la sua gente a sé. Lui è il messaggero, ma è anche il messaggio, no? E a chi sono rivolte queste parole? A chi le sta dicendo? Non solo ai giudei, ma a quelli che sono considerati stranieri dai giudei. E Gesù, infatti, si è appena trasferito a Caparnaum, Caparnaum, no? Caparnaum, là sopra. Guardate questa città di confine, tra la Siria, la Fenice, la Fenicia, la Samaria che era nemici con la Giudea, nella Decapoli, sta dicendo queste parole a giudei, ma anche a stranieri. E la sua fama si sparge per tutta questa terra. C'è gente da ogni dove che sta arrivando. Quando Gesù è su quel monte vicino a Caparnaum, si pensa, ma è comunque in quella zona, in Galilea. Quindi quando pronuncia quelle parole di un mondo meraviglioso, lo sta facendo a tutta questa gente che sta arrivando da tutte le parti e sta venendo ad ascoltarlo. Chi vive a Trieste sa cosa vuol dire vivere in una città di confine, vive in una città di porto di mare, un crocevia di popoli, nazioni, un porto dove persone e merci passano, arrivano da ogni dove, passano. E i triestini sanno benissimo come da queste cose che passano lasciarle andare via e trattenere solo quello che gli interessa. Quindi è un posto dove le idee circano liberamente e così anche circola liberamente l'oscurità spirituale, perché non sempre quello che tratteniamo è quello che ci fa bene. E in questo contesto, quindi, di città di confine, il re Gesù accoglie tutti, giudei, siriane, e li accoglie, e li sta accogliendo con un invito. Riconoscete che avete tutti bisogno di voltare le spalle alla vostra vita per tornare a guardare in faccia a Dio. Ravvedetevi, sta dicendo. Correte ad abbracciare, ad abbracciarlo. Lasciate la vostra vita alle spalle e correte ad abbracciarlo. Lasciate questo regno per un regno migliore, dice Gesù. Lasciate questo regno per il mio regno. E vi ricordate, avevo detto, no, che Matteo presenta questi grandi discorsi e li collega con degli episodi, no? E quindi vediamo, giriamo le pagine della nostra Bibbia proprio a Matteo 8, dopo questo sermone su un regno meraviglioso che lui sta presentando. E la scena qua, nel capitolo 8, si apre con Gesù, che scende dal monte e viene avvicinato da un lebroso, che chiede di essere purificato, no? Ora, dobbiamo ricordarci che per i giudei la lebbra non è solo una malattia fisica, c'è qualcosa anche di spirituale sotto. rappresenta qualcosa di spirituale, è una malattia che si trasmette per contatto, quindi anche immagini di qualcosa di impuro che ti tocca e che ti invade, che invade la tua purezza. Infatti se qualcuno toccava un lebroso doveva andare a fare, a purificarsi, no? Non poteva entrare nel tempio, se toccava altre persone anche queste diventavano impure, quindi è qualcosa di fisico e di spirituale. Gesù, invece, cosa fa quando questo lebroso si avvicina? Non sta lontano, ma allunga la mano verso il lebroso. E io immagino, no? Questo lebroso che è abituato da anni a vivere con i campanelli attaccati addosso per dire, guardate che sono lebroso, state lontano da me. E immagino mentre Gesù sta allungando la mano, lui che si, questo lebroso che si toglie, fa no, 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 non mi puoi toccare. E invece Gesù allunga la mano e lo tocca. E quello che succede è incredibile, perché la sua purezza non viene contaminata dal lebroso, ma è la sua purezza che si trasferisce sul lebroso e lo guarisce, no? Adesso è più chiaro che cosa significa che il regno di Dio è vicino. Il re sta portando la sua purificazione al mondo. Il re sta toccando il mondo per trasferire la sua purezza al mondo. E Chiesa, questa è la nostra speranza e questa è la nostra certezza, che il re Messia ha portato la sua purezza sulla croce e per grazia, per il suo grande amore, non perché eravamo particolarmente meritevoli, per grazia, per un amore meritato per stranieri e ribelli come me, come voi, come il lebroso, come Giovanni il Battista, per mezzo della fede che abbiamo messo nel suo sacrificio, la speranza è che lui abbia permesso uno scambio su quella croce. La sua purezza sia stata trasferita a noi impuri e la nostra impurità sia stata trasferita a lui e che su quella croce lui abbia pagato per ogni nostra impurità. Ha pagato totalmente, tanto che con questa purezza non nostra ci ha fatto entrare immediatamente nel suo regno nel quale non potevamo entrare a causa della nostra impureità. Questo è il Vangelo per noi, che mentre eravamo stranieri, eravamo lontani dal suo regno e strani, i nemici per la nostra ribellione al Padre, Cristo ha dato la sua vita per noi, perché noi potessimo entrare nel suo regno, far parte del suo regno e non potevamo farlo da soli, ma lui ci ha raggiunti, lui ci ha purificati, lui ci ha dato una cittadinanza nuova e un passaporto nuovo, non più con scritto italiano, non più con scritto rumeno, cinese, non più con scritto triestino, fordenonese, ma con scritto cittadino del cielo. Questo è il nostro passaporto in lui. E quando Paolo scrive una lettera alla Chiesa in Filippi e incoraggia i credenti a diventare sempre più come il Gesù, come il re del regno, lo fa dicendo in Filippesi 3.20, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che Gesù ha di sottomettere a sé ogni cosa. Gesù ha il potere di sottomettere a sé ogni cosa, di pagare per il nostro peccato, di purificarci come il lebroso, di portarci nel suo regno, ma ha anche il potere di trasformare tutte le nostre ansie e tutte le nostre paure e tutti i nostri preconcetti quando incontriamo, quando siamo davanti a una straniero, quando siamo davanti a qualcuno che non è come noi, e accogliere lo straniero come Gesù ha accolto noi. E quindi come lui ha fatto e come noi possiamo fare? Lo vediamo qua da Matteo 8, perché Matteo 8 ci presenta tanti episodi, ma ne prendiamo due, che ci mostrano come qualcuno che appartiene al regno di Dio incontra uno straniero. Vediamo versetti 5 a 13. Quando Gesù incontra un centurione romano, che è strano, no? Noi che siamo italiani che vediamo questo incontro tra Gesù e uno straniero, il centurione romano. Ma come? Era romano? Ma vabbè, poi non importa. Comunque, Gesù incontra un centurione romano e dobbiamo capire che in questo momento il centurione romano per i giudei è lo straniero per eccellenza, è lo straniero degli stranieri, è il nemico dei nemici, è l'invasore pagano che sta opprimendo in questo momento la terra promessa. È qualcuno da tenere lontano, da non avvicinarsi. Tanto che se entravano in casa, se i giudei entravano in casa di un romano, diventavano impuri, esattamente come se avessero toccato un lebroso. Quindi vediamo assieme versetti 5 a 13. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandole, dicendo, Signore, il mio servo giace in casa, paralitico, e soffre moltissimo. E Gesù gli disse, io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anche io sono un uomo sottoposto ad altri, ho sotto di me dei soldati e dico uno va e degli va e un altro viene e degli viene e al mio servo fa questo e degli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano, ehi, io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, ma i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, là ci sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione, va e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Quindi vediamo che il centurione venne a chiedere a Gesù di guarire il suo servo paralitico che soffre e Gesù lo accoglie oltre la previsione ed è pronto a diventare impuro pur di entrare in casa di questo romano e salvare il servo, no? Il centurione, questo mi lascia perplesso, il centurione ha una sensibilità che non si aspetterebbe da uno straniero invasore, da qualcuno che sta imponendo la sua forza, ha una sensibilità incredibile sapendo che se Gesù fosse entrato in casa sua Gesù sarebbe diventato impuro per la sua legge. Il centurione gli dice no, ho fiducia che tu puoi guarire anche a distanza, no? E ovviamente Gesù è capace perché può fare tutto e lo fa. Quindi molte le considerazioni che possiamo fare ne faccio solo alcune, quindi se potete seguirmi, queste sono applicazioni per noi. Vediamo, la prima, che Gesù scende dal monte, l'abbiamo visto prima con il paralitico, no? Gesù scende dal monte, dite cosa c'entra? Siamo qua in pianura, cosa vuoi da me, no? Il monte nella Bibbia non è solo un luogo fisico, come la lebra è qualcosa di spirituale, anche il monte nella Bibbia non è solo un luogo fisico, è il luogo di incontro tra il Dio, tra Dio e l'uomo, no? Se guardiamo Adamo e Deva nel giardino, il giardino è su un monte, è un alto luogo, è un santuario dove Dio scende e incontra l'uomo. Babele cercano di costruire il proprio monte, la torre, per raggiungere, per raggiungere Dio a modo loro. E Dio dice no, non va bene, scompiglia tutti i piani, no? Mosè riceve le tavole della legge, come ci si comporta e dove le riceve? Su un monte, dove lui è andato a incontrare Dio, no? Non è mai a caso, quando vediamo un monte non è mai un caso. Gerusalemme e il Tempio, dove sono? Sono su un monte, perché? Perché è il luogo di incontro con Dio. Israele era pieno di alti luoghi, dove la gente cercava di incontrare falsi dèi, no? E tutta la Bibbia è piena di questi richiami ad abbattere questi alti luoghi, no? L'uomo ascende per incontrare Dio, ma qui abbiamo qualcosa di incredibile, che Dio, Gesù, scende per incontrare noi. Gesù è diverso, perché non eravamo capaci di salire, non eravamo capaci di ascendere a Dio. Gesù è sceso a incontrare noi. E come dice Filippesi 2, abbiate lo stesso sentimento di Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Cosa fece? Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quindi primo passo per incontrare lo straniero, e direi anche chiunque, è mettere da parte il nostro orgoglio. Non siamo superiori, perché siamo tutti peccatori e abbiamo bisogno tutti quanti dell'unico Gesù che è venuto a incontrarci dall'alto. Il secondo passo che vediamo è che Gesù si ferma. Gesù si ferma. Quando il centurione si avvicina, Gesù non tira dritto, come avrebbe fatto qualsiasi altro giudeo, no? Si ferma ad ascoltare. E penso a tutte le volte che passo per Trieste e ci sono queste persone che vengono, ci sono tanti stranieri che cercano anche di vendermi qualcosa, no? Spesso abbasso lo sguardo, perché non voglio essere coinvolto nella sua vita. Ma forse lì davanti c'è un'opportunità che Dio sta dando a noi per rendergli gloria. Quindi forse possiamo veramente fermarci. Perché? Perché eravamo anche noi stranieri. E Gesù? Gesù si è fermato con noi. La terza cosa che vedo è che Gesù dà una chance, dà un'opportunità. Non si ferma i preconcetti sul romano, straniero, invasore, ma dà un'opportunità e ascolta. Va oltre al modo in cui questo centurione parla, è vestito. Sto pensando, pensate alla reazione che abbiamo davanti a una donna col burca, no? Ci sono disegni di legge per obbligare queste donne a togliersi il velo che copre la faccia. E trovo veramente ironico che in questo momento per legge tutti dobbiamo coprirci la faccia. No? È incredibile, siamo qua, che dobbiamo tutti coprirci la faccia. Lo trovo ironico, ma il Covid ci sta ricordando una cosa, ci ricorda come non siamo bianchi, neri, gialli, pordenonesi, friulani, triestini, ma apparteniamo a un'unica razza, la razza umana. Spesso non accogliamo perché crediamo che lo straniero sia il nostro nemico, ma non è lo straniero il nostro nemico. Entrambi noi abbiamo ereditato dal nostro comune antenato Adamo, abbiamo ereditato lo stesso nemico, il peccato che ci fa vergognare, nascondere, diffidare l'uno dell'altro. Pensate, Adamo ed Eva nel giardino, no? Vivevano nudi, non avevano paura, eppure con il peccato cosa è successo? La prima cosa, si sono coperti, si sono vergognati, si sono nascosti, hanno iniziato a accusarsi l'uno con l'altro. Il problema non è lo straniero, il problema è il nostro peccato. Questo è il nostro nemico, non che abbiamo davanti. Possiamo dare una chance a chi il Signore ci sta portando? È quello che Gesù ha fatto con noi, si è fermato, e siamo in Lui perché per grazia ci ha dato una chance, no? Quarto punto, Gesù è controculturale. Va contro la cultura comune per incontrare il cosiddetto nemico. Non ha paura di entrare in casa sua, nonostante il giudizio delle persone e nonostante forse anche la paura. Entrare in casa di un oppressore militare? Cosa può farmi, no? Il Vangelo è controculturale perché ragiona in maniera diversa e porta comportamenti diversi. Mi colpiva prima la sorella. Incontrare italiani, vedevi nel loro sguardo che hanno paura, no? E mi ha colpito molto questo. Veramente grazie per la testimonianza che hai portato. Perché? Mi colpiva quello che diceva. Non so di cosa avevano paura. Forse avevano paura che cambiassimo in qualche maniera la loro cultura. Mi ha colpito questo perché è veramente interessante, perché la nostra speranza è veramente che il Vangelo cambi la nostra cultura. Questa è la nostra speranza, perché la nostra cultura è una cultura di odio, è una cultura di prevalicazione, è una cultura di egoismo, è una cultura di egocentrismo. Noi vogliamo che il Vangelo cambi la nostra cultura. Ed è la nostra speranza comune che il Vangelo cambi la nostra cultura e cambi la cultura della nostra sorella e la cultura di ogni fratello e sorella nel mondo. Perché Dio opera in maniera incredibile, ama la diversità e ama anche come il Vangelo trasforma quella cultura, non a un'unica cultura, ma a diversi miriadi aspetti di culture trasformate dal Vangelo. L'immagine del Regno è un'immagine di diversità trasformata dal Vangelo. Il Vangelo accoglie con grazia e questo è controculturale, ci porta ad amare il nemico e questo è controculturale, ci porta ad amare il diverso e questo è controculturale. La visione del mondo consumato, pensiamo al momento che stiamo aspettando, quello di Apocalisse 7, 9. Nel mondo consumato vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Questa è una grande buona notizia. Questa stanza è meravigliosa perché ci sono tante culture diverse, perché il solo stare qua, adesso, noi, è controculturale. Se giro per Trieste c'è la zona dei serbi, la zona degli albanesi, la zona dei cinesi, la zona dei vari rifugiati, quelli di Mugia non si mescolano con i triestini, ma fratelli e sorelle salvati per grazia, che redenti nella loro diversità, che vengono assieme per lodare il Signore, per vivere come fratelli e sorelle, che si aiutano e si accolgono. Questo è controculturale, questo è un pezzo di cielo, che si trova qua. Che bello se possiamo farlo stesso anche con quelli con cui è duro mescolarsi. Che bello se possiamo farlo fuori da questa stanza. Che bello se possiamo avvicinarlo straniero diverso anche quando la nostra cultura sembra prevalere, perché Gesù si è avvicinato alla nostra cultura per redimerla e ci usa per redimere questa cultura. Quinto punto, Gesù trova un adoratore. I parametri del regno sono diversi dai parametri di razza e società. Il Vangelo non si basa sulla provenienza, ma si basa sulla fede nel nuovo Adamo. Il Vangelo non divide, ma unisce il Giudeo e il Greco sotto lo stesso corpo, quello riconciliato di Cristo. E il centurione romano, in questo senso, mostra più fede in Gesù di quanto abbia fatto il popolo di Dio. Versetto 11, 8, versetto 11, in nessuno in Israele, dice Gesù, ho trovato una fede così grande. Versetto 13, molti pensano di far parte del regno, ma saranno cacciati fuori mentre i cosiddetti nemici si sederanno a tavola nei cieli con i gandri patriarchi ebrei, Abramo, Isacco e Giacobbe. La fede in Gesù è l'unico parametro che conta, quello che trasforma ribelli in adoratori, stranieri in membri della stessa famiglia. Quanti fratelli di altre razze ho trovato molto più cari che alcuni parenti? Semplicemente perché il nostro legame in Cristo ci dà una prospettiva diversa. L'adorazione cambia i nostri cuori, non è un problema sociale, è un problema teologico. Come conosciamo Dio, il papà che ci sta accogliendo a sé nella sua famiglia? Sei pronto a essere usato da Dio per trovare un adoratore, per trovare un fratello. E la postilla, a quest'ultimo punto, si trova in un altro banno di Matteo 8. Gesù che incontra quei due indemoniati, lo vediamo dopo, versetto 28 in poi. Gesù accoglie nonostante le conseguenze. Gesù accoglie nonostante le conseguenze. Quelle conseguenze che ci possono fermare, no? Un po', dal fare il primo passo, dall'accogliere. Perché l'accogliere, quello che ci può fermare dall'accogliere, può essere la paura. Paura dello scontro culturale, paura del rifiuto, paura del pericolo fisico per noi e la nostra famiglia. E ci sta, ci sta tutto. Come Matteo dirà, scusami, come Matteo riporta che Gesù dice ai suoi quando li manda in missione. Dice, vi mando, nel capitolo 10, versetto 16, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Ma non dice, state qua con me. Andate. Non sempre l'incontro va come vorremmo. Anche Gesù non è andata bene. Infatti, in questo brano, dove ci sono i due indemoniati, no? Va nel paese dei... Ops, scusate. Va nel paese lì a destra, in alto, ok? Quindi lontano. E il fatto che c'è una mandria di porci lì attorno significa che non è un paese ebraico, perché non avrebbero mai, per religione, non avrebbero mai allevato maiali, no? Quindi va in un paese straniero. E lì ci sono due uomini posseduti da demoni che li tormentano. E non vogliamo andare nei dettagli, quindi non andrò a fondissimo, ok? Ma quello che succede è che Gesù con una parola scaccia i demoni che entrano... E questi demoni entrano nel branco di porci e questi porci, si dice quasi duemila maiali, si gettano nell'acqua e si succidono, ok? Quello che ci interessa in questo momento è la reazione degli stranieri. Guardate. Versetto 33. Quelli che li custodivano, custodivano questi maiali, fuggirono e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. 34. Tutta la città uscì incontro a Gesù e come lo videro lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Gli chiedono di andarsene perché sono spaventati, forse anche sono seccati perché hanno perso un bel guadagno, no? Non importa che Gesù abbia guarito due persone che stavano soffrendo così tanto, non importa che abbia portato pace nella zona, erano talmente forti che si liberavano dai cepi, io secondo me gli davano randellate ogni volta che passavano per la strada. Non importa che abbia portato pace in questo paese tormentato, non importa. Per loro era più importante che Gesù se ne andasse e questo può capitare anche a noi. Accogliamo, condividiamo, amiamo, ma dobbiamo anche essere pronti a ricevere sberle invece che ringraziamenti, perché non sempre il regno viene preso come buona notizia. La persecuzione è una realtà e se è capitato a Gesù perché non può capitare a noi? E se Gesù usa questa persecuzione per sé e per la sua gloria o per conquistare altre persone? È una realtà, ma è una realtà che non può distoglierci dal meraviglioso compito di continuare a vivere su questa terra come forestieri, come stranieri, appartenenti a un regno di pace e di bellezza che per grazia vivono e invitano allo stesso regno. Quindi vediamo, e vado a concludere, guardiamo capitolo 9, la fine del capitolo 9. Matteo dice che Gesù va in giro per villaggi insegnando, predicando il Vangelo del regno e guarendo e poi riporta capitolo 9, versetto 36. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Chiesa, noi siamo il compimento di questa preghiera. Gesù, il Re del Cielo, pienamente figlio dell'uomo, figlio di Dio, trattato come una straniero, ha avuto compassione di questo mondo, di stranieri perdute, come pecore senza una guida, senza cura. E quando ci ha incontrato, è sceso dal monte per incontrarci, si è fermato, ci ha dato una chance, ha portato la cultura del Vangelo che è estranea alla nostra cultura. Tutto per trasformarci da ribelli in adoratori, da stranieri a cittadini del cielo. E per fare tutto questo, per amore e obbedienza al Padre, ha subito la conseguenza della croce. E adesso, se siamo salvati per grazia, vuol dire che lo Spirito Santo è sceso dal cielo e dimora, è sceso su di te e dimora dentro di te. Questo vuol dire che tu sei l'incontro con Dio per qualcuno. Questo vuol dire che sei operaio accolto nel suo regno, che ha la stessa missione di Gesù di invitare accogliendo altri nel suo regno. Ed è per questo, per la sua potenza, che possiamo pregare per umiltà, pregare per accogliere lo straniero non con orgoglio e paura, ma con umiltà e certezza nella potenza del nostro Maestro. È per questo che possiamo semplicemente fermarci con gli stranieri, perché anche noi eravamo stranieri. Per questo possiamo dare loro una chance, perché anche a noi è stata data. Di andare anche contro la nostra stessa cultura, il nostro stesso giudizio. Per cosa? Per cercare altri adoratori, rischiandone anche le conseguenze, ma tutto per la gloria di Dio.